della Guardia Cossiera affiancata da Michele Danza che è il comandante del porto dove ci troviamo e abbiamo subito colto insomma intanto veramente le buone intenzioni di questo progetto e la forza che c'era che si vedeva già da come ne avete parlato al comandante Danza e da come lui poi mi ha riferito perché poi voi avete avuto diretta interlocuzione con lui quindi ne abbiamo parlato insieme e in questa banchina è una banchina riservata alle unità in transito abbiamo deciso che questa era un'iniziativa meritoria invece per riservare un ormeggio in via esclusiva perché al di là del servizio che voi rendete a questi splendidi ragazzi c'è una diffusione della cultura del mare a tutti i livelli a cui noi ovviamente non possiamo che partecipare in una splendida cornice come questa della città di Formia insomma che non spetta l'hanno già detto i rappresentanti del comune in maniera molto... quindi l'unica cosa che mi rimane da dire è buon vento a tutti divertitevi a bordo di questa bellissima barca e insomma spero che farete anche i bei bagni perché poi la volta che stare a bordo secondo me il fatto di fare i bei bagni perché avete pure i bei watch che vi proteggono insomma non ci sono problemi veramente auguri e buon vento a tutti grazie grazie